Se anche un osservatore esterno ti chiedesse che calendario avete da qui alla fine? Rispondo a un calendario difficile, ma come lo sono tutte le partite in questo periodo qui. Non vi lasciate ingannare, perché noi sappiamo che sono difficili le partite dove dobbiamo giocare, perché affrontiamo le squadre che competono per la lotta e la promozione. Ma non credo che chi secondo me deve affrontare le squadre di Vassa del City abbia un calendario agevole. Quindi è dura per tutti. Noi l'abbiamo dimostrato anche in controlembo che tutto questo divario non si è visto in campo. Non guardiamo troppo all'avversario, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi in campo, avere le nostre certezze, le nostre sicurezza e metterle in campo. Ci vuole tanta determinazione, tanta umiltà, tanto sacrificio. Quando non basta questo dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non pensare, ma correre basta. Siamo in battaglia e finché la battaglia non finisce non dobbiamo pensare, dobbiamo solo battagliare. Siamo in lotta, lottiamo e lottiamo fino a che, come si dice, senza fare considerazioni. Ti faccio un esempio. Se un bugio andava sul ring, non è che pensa a darle e non prenderle e viceversa. Non è che si accorge di quello che c'è intorno, perché comunque è talmente preso a fare battaglia, a lottare. E quindi nello stesso dobbiamo far noi essere concentrati a lottare e a battagliare, senza stare troppo a fare altre considerazioni. Non dobbiamo pensare, dobbiamo correre. Ora mi ricollego a questo. Forse c'è stato un periodo recente in cui avete troppo pensato, secondo te? No, mai. Non esiste pensare. No, pensare significa... No, aspetta, io sono una massima. Se uno pensa non corre, no? Quindi noi non dobbiamo pensare, dobbiamo correre. Dico non pensare al... È normale in questo momento qui, no? Avere quella curiosità, quella bramosia che fanno gli altri, che succede qua, là. Non so se mi spiego questo qui, guardare un po' il contesto esteriore, fuori, no? Fare i conti, i calcoli, non dobbiamo fare niente. Secondo me, dobbiamo solo correre e pensare a fare il massimo in campo e portare dei punti. Ministro, volevo chiedere una cosa anch'io. Ha detto che non sarà facile affrontare le squadre di bassa classifica, l'abbiamo visto anche contro l'Empoli, che comunque... Ma lui anche a Frosignone che affronta noi, eh. Esatto, appunto. Però volevo chiedere, la differenza fra una partita gagliarda, come è stata quella contro l'Empoli, con un Cesena capace di recuperare addirittura un 2-0, e di contro invece una partita un po' più spenta, come quella di Brescia. Cos'è successo fra uno e l'altro? È successo nella terza partita in sette giorni. Terza partita in sette giorni, con una temperatura a 30 gradi, e sfido chiunque a non pagare l'azio. È normale, io ho sempre detto che il camionale B è durissimo, è il più difficile di tutti, perché ci sono tante partite, e poi ti vedrai questa settimana qui, che ci sono ancora tre partite in sette giorni, è scoppiato il caldo, quindi... A volte le valutazioni non sono solo in natura tecnico-dattica, sono anche in natura fisica, soprattutto. Adesso chi ha birra, adesso la può spendere, chi non ce l'ha, o l'ha finita e fa fatica. Ecco perché poi i valori si possono, non dico azzerare, ma mascherare, no? Perché se una squadra adesso corre, secondo me, i valori tecnici possono essere... livellati. Ecco, il vostro livello di birra, mister, ora come lo quantificheresti? No, c'è... Il barile è ancora, Piero. Il barile... No, la birra ce ne abbiamo ancora. Guarda che pur avendo giocato una partita a Brescia, che era la terza, con l'Embro siamo andati a manetta per 90 minuti, abbiamo fatto una roba grossa. A livello di ritmo è una cosa impressionante. E a Brescia, pur essendo che era di noi, comunque dal secondo tempo siamo riusciti comunque, nonostante il gran correre, siamo riusciti a chiudere la partita leggermente in crescendo, che non è poco. Mi approfitto per un punto sanitario. Esposito? Non ci sono Esposito e Cagia, ha recuperato Swagger rispetto all'ultima partita e sono tutti convocati, sono tutti disponibili per giocare, ecco. Tranne Esposito e Cagia, della Rosa. Esposito è una cosa più complessa del previsto? A questo punto è una cosa che comunque lui ha saltato tante partite, speriamo almeno di rimettere l'incesto per averlo almeno per qualche frazionato di partita, che sai, nei minuti finali un difensore come lui a volte serve, no? Nei colpi di testa, il gioco aereo, quelle robe lì. Però deve star bene, se non sta bene è chiaro che ormai non si tratta più di guadagnare a migliore condizione, si tratta magari di poterlo avere anche per qualche minutaggio, per qualche evenienza che fa sempre comodo. Mister, allora guardando avanti, che partita sarà domani col Frosinone? Noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo fare punti, noi dobbiamo vincere domani, dobbiamo vincere la partita, dobbiamo giocare da Cesena, senza parlare troppo a chi abbiamo di fronte, non per mancanza di rispetto, ci mancherebbe altro perché Frosinone io sempre vi do una squadra più forte in questo campionato, sono la più forte, però noi servono punti, e dicevo prima la metafora del Pucci, no? Se stai sul ring a combattere, stai a pensare tanto, chiedi di fronte, cerchi di darle, non prenderle, non farti male, o perlomeno, quindi ecco, dobbiamo essere concentrati sull'andare in campo, andare al massimo, spingere, a prescindere che abbiamo di fronte, che comunque meriti del massimo rispetto perché si sta giocando la Serie A direttamente. La gara dell'andata forse ha dimostrato che... Non ne volevi parlare, io non ne volevo parlare, ne abbiamo già parlato abbastanza. Bella ruspante fu, insomma, no? Sicuramente emozionante. Non avara di... Tra l'altro io mi ricordo anche l'ultima immagine, avete chiuso col vostro terzino nella loro area a spirale del 4-3, che proprio la conferma, insomma, che voi con lo spirito giusto e nella giornata giusta, guardate negli occhi tutti, insomma. Sì, è vero, è vero. Questo, dobbiamo fare questo, non è come che ti dico, non guardate troppo che abbiamo di fronte, ma non per mancanza di rispetto, ci mancherebbe. Noi abbiamo sempre rispetto ai nostri avversari, però dobbiamo sapere che se li aggrediamo e abbiamo atteggiamento giusto, possiamo venire a capo a prescindere dalla loro forza. Abbiamo parlato con Cascione qualche giorno fa, no? Lui ci ha detto, vedo un po' troppa negatività, torna a noi perché qui bene o male c'è un gruppo che sta remando compatto, conosce l'atteggiamento e all'obiettivo ci vuole arrivare. Sei d'accordo con la sua analisi? Guarda, io sinceramente di queste cose preferisco non parlarne, per il motivo che ti ho spiegato prima. Non che non mi accorgi, che non legga queste cose qui, però non voglio dare importanza. Perché se... anche se uno si ferma ad ascoltare, secondo me perde concentrazione, no? Verrà il momento per fare queste considerazioni, queste analisi, però a me sinceramente non me ne frega niente, io vi do da farmi circolare addosso tutto, perché devo essere concentrato solo su quello che bisogna fare in campo, allenare bene la squadra, eccetera. Poi le considerazioni anche io le faccio, perché, meno male, sono abbastanza evidenti le cose, però non ci deve toccare, non mi deve scalfire, non mi deve... Io sono concentratissimo solo per immagazzinare al massimo, al meglio le mie risorse, le mie energie, senza pagare mugugni, polemiche, commenti negativi, pessimismo. Tutto questo qui, secondo me, di doie. A me non frega niente di questo, non mi interessa, non mi tocca. Io dirò dritto per la mia strada, perché solo così riesco a essere concentrato su quello che devo fare io e non mi faccio condizionare l'ambiente esterno. Riguardo a Caccia, mister, vale come preesposito il discorso? Cioè, a questo punto spero di averlo per qualche... Dopodomani mancano quattro partite, i martellini mancano tre, cioè, a questo punto... Non so, io faccio fatica a dirti se possiamo averlo meno, però anche per lui è stato fermo quest'anno, è stata una sfortunata per lui, eh. Se lo recuperiamo, bene. Se non lo recuperiamo, purtroppo ci abbiamo fatto l'abitudine a giocare senza. È stata un'annata sicuramente disgraziata per lui, sotto il profilo degli infortuni. Quindi, adesso mancano meno di 20 giorni alla fine. L'infortunio che ha avuto lui, comunque, non è una cosa di poco conto. Poi, come fa a prendere la condizione, insomma, ecco, quindi, mi sembra... Mi auguro che recuperi, che l'abbiamo, però, uno deve far conto anche che ha avuto molte traversie quest'anno. È difficile prendere la condizione con due o tre settimane di lavoro ormai. Come fai? Misere, tatticamente parlando, il Cesena, che Cesena troveremo domani? Sulla stessa falsa riga, insomma, delle ultime partite, con gli esterni molto alti, una sorta di falso 4-3-3? Perché falso 4-3-3? 4-4-1-1 in fase di non possesso, 4-3-3 in fase di attacco, comunque? No, noi abbiamo fatto solo due cose. O 4-4-1-1 quando la Riby giocava sotto a Yalov, o 4-3 quando giocavamo col vertice basso. Altri modi non ne abbiamo fatti, eh? Non è nel falso 4-3, nel falso 4-4-1. Giochiamo con triangolo vertice basso, c'è un campo, un play, due mezzali, due ali nella punta centrale, classico 4-3. Prima giocavamo con la Riby sotto a Yalov, però tutti e due i moduli sono facilmente, come posso dire, intercambiabili. Altro non abbiamo fatto perché non mi piace creare confusione. I miei sono concetti, il mio calcio è un calcio di principi e di concetti. Noi dobbiamo andare in verticale, qui non ci piove. Poi, come sono messi in campo, se i tre davanti è uno più uno cambia poco. Un'ultima cosa, hai visto per caso ieri Arsenal atletico? No, ho visto anche Liverpool, Roma. Dio buono, tanta roba, eh? Calcio verticale, tanta roba. Infatti, immaginavo, infatti, insomma. L'atletico ieri l'hai visto, l'atletico? Sì, sì, l'ho visto. Di Fabio atletico. È normale, eh. A me piace questo tipo di calcio, mi piace le squadre che vanno in verticale, che vanno in orizzontale. Quindi, ma anche perché secondo me è un calcio bello, spettacolare. Vuoi mettere che vai sempre avanti al portiere, ti rimporta, è emozionante. L'essenza del calcio è andare a tirare, non di palleggiare avanti alle rigore. Quindi 60-70 passaggi che si fanno fra i difensori e i terzini. Tu mi spieghi a che cosa servono. Però ognuno c'è la sua idea di calcio. A me il calcio verticale è il mio calcio.